Nelle anticipazioni delle prossime puntate di My Home, My Destiny, assistiamo a Baris, che protegge Zeynep, rimanendo però allerta nei confronti di Nesrin e Tariq. Al mattino, durante la preparazione della colazione, sia Emine che Sakine esprimono i loro dubbi sulla rapidità con cui Zeynep e Nermin hanno riposto fiducia in Nesrin e Tariq. Nermin cerca di tranquillizzarle, lodando la professionalità di Tariq e la sincerità di Nesrin. Sakine si sente sollevata, ma Emine rimane preoccupata. Contemporaneamente, a casa di Baris, sia Ali Risa che Savash notano la felicità di Baris, finalmente fiducioso nel suo rapporto con Zeynep, soprattutto dopo aver visto le foto pubblicate la sera prima che la presentano come la nuova dirigente del Lotus Group. Tuttavia, Baris nota che mancano le foto in cui compare Tariq. Arrivata in ufficio, Zeynep viene informata che dovrà rilasciare un'intervista per una prestigiosa rivista di donne in carriera in Turchia. Sebbene non entusiasta, accetta, considerandolo parte del suo nuovo ruolo di dirigente dell'azienda di sua madre. Durante la prima riunione con i vertici dell'azienda, Zeynep presenta Baris come consulente legale e Tariq come consigliere personale, definendo i ruoli e stabilendo la nuova direzione dell'azienda. L'ultimo punto all'ordine del giorno è l'assunzione di un nuovo responsabile delle risorse umane, e Tariq afferma di avere già il candidato ideale per il ruolo. La riunione procede bene, con Tariq che cerca di conquistare la simpatia dei presenti, in particolare di Nermin, e tutti lodano Zeynep per la sua professionalità. Nel frattempo, Nesrin e Meltem si confrontano. Meltem non conosce ancora la vera storia di Nesrin. Infatti, il risentimento di Nesrin non è rivolto solo verso sua madre Sakine, ma anche verso Nermin e Zeynep. Rivela che, quando era piccola, Nermin aveva proposto a Sakine di prendersi cura di lei, ma Sakine aveva rifiutato, preferendo solo in seguito affidarle Zeynep. Gulbin, che è il vero nome di Nesrin, non ha mai perdonato a Sakine per aver dato a Zeynep una vita meravigliosa, e ritiene che Zeynep non si sia mai interessata a lei. Prima di continuare con il nostro video, abbiamo una piccola richiesta per te. Se non l'hai già fatto, ti invitiamo a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per attivare le notifiche. Questo semplice atto non ha alcun costo per te, ma è fondamentale per noi. Ti permetterà di essere sempre aggiornato sui nostri ultimi video e ci darà un grande supporto. Grazie di cuore. Nel ristorante recentemente inaugurato, l'atmosfera è vivace e carica di entusiasmo. Sakine, Sultan e Gila e altri membri del team sono profondamente immersi nei preparativi, ciascuno assorbito dalle proprie responsabilità e compiti. Ognuno porta il proprio contributo unico, lavorando sodo per assicurare il successo dell'impresa. Nel frattempo, Savash, con uno sguardo attento e un po' preoccupato, monitora attentamente l'andamento dei lavori. Non può fare a meno di notare la crescente vicinanza tra Emine e Nu, una situazione che lo porta a mostrare segni di una gelosia sempre più marcata. Dopo una mattinata produttiva, Baris e Zeynep trovano il tempo per un pranzo insieme. È un momento piacevole e rilassato, durante il quale Baris coglie l'occasione per complimentarsi con Zeynep per l'impressionante lavoro che sta svolgendo in azienda. Tuttavia, nonostante il tono positivo della conversazione, Baris non riesce a trattenersi dal condividere i suoi dubbi riguardo Tariq. Secondo lui, sembra evidente che Tariq sia più incline a curare la sua immagine e a fare colpo sugli altri piuttosto che a dedicarsi seriamente al lavoro. Queste considerazioni gettano un'ombra di incertezza sull'operato di Tariq. La situazione si fa ancora più complessa quando Tariq e Nesrin fanno il loro ingresso al ristorante. Tariq, con una mossa inaspettata, presenta Nesrin come candidata ideale per il ruolo di responsabile delle risorse umane. Nesrin, con una certa abilità, manifesta una sorpresa studiata, mentre i dubbi di Baris si intensificano ulteriormente. Per Zeynep, che ha riposto grande fiducia in loro, la proposta sembra particolarmente interessante e promettente, nonostante le riserve di Baris. Questa serie di eventi segna un momento cruciale nel ristorante. Con nuove dinamiche e sfide che iniziano a emergere tra i personaggi. Tornati in azienda, Zeynep rilascia la sua intervista, che sembra concentrarsi più sul suo passato con Magdi che sul suo attuale ruolo lavorativo. Lei comunque riesce a concludere l'intervista in modo eccellente, invitando gli ascoltatori a imparare dai propri errori e a gestire le emozioni in modo civile. Al ristorante, tutti sono impegnati a creare un menù per la serata. In particolare, Alirisa sembra particolarmente coinvolto nella preparazione. Alla cena organizzata per valutare i piatti migliori da inserire nel menù del nuovo ristorante, sono invitati Nermin, Zeynep e Gili altri. Tuttavia, Savas, sempre più nervoso e geloso della vicinanza tra Emine e Nuh, decide di andare a casa, suscitando i primi dubbi in Emine su un suo possibile interesse. Nel corso degli eventi, Baris si imbatte in una scoperta inaspettata. Le fotografie in cui Tariq era presente sono state deliberate e escluse dalla pubblicazione. Questa decisione è stata presa su esplicita richiesta dell'avvocato di Tariq, un dettaglio che non passa inosservato agli occhi attenti di Baris. Inoltre, Tariq ha categoricamente declinato l'opportunità di partecipare a ulteriori sessioni fotografiche successivamente all'intervista di Zeynep. Questo comportamento insolito fa sorgere in Baris un crescente senso di sospetto e incertezza riguardo alle vere intenzioni di Tariq. Preoccupato per le implicazioni di queste azioni, Baris decide di portare la questione all'attenzione di Savas una volta rientrato a casa, chiedendogli di condurre un'indagine più approfondita per scoprire cosa si nasconda dietro l'atteggiamento elusivo di Tariq. Nel frattempo, Tariq, mantenendo il suo atteggiamento affascinante e persuasivo, estende un invito a cena a Nermin. Tuttavia, lei, già coinvolta negli impegni per la cena al nuovo ristorante, suggerisce a Tariq di unirsi a loro. La proposta di Nermin non solo offre a Tariq l'opportunità di contribuire con ulteriori consigli, ma anche di partecipare attivamente alla valutazione del menù. Dall'altra parte, Baris e Zeynep, venuti a conoscenza del ritorno a casa di un Savas visibilmente contrariato, optano per organizzare una cena intima presso la residenza di Baris. Questo pasto casalingo sarà un'occasione per assaporare i piatti che saranno proposti nel nuovo ristorante della famiglia. Una serata che vedrà la partecipazione non solo di Baris e Zeynep, ma anche di Emine e Nesrin. Questo incontro promette di essere un momento significativo, che potrebbe rivelare ulteriori dinamiche e tensioni tra i personaggi. Al ristorante si riuniscono Ali Risa, Nu, Sultan, Sakine e Nermin, in attesa di Tariq. A casa di Baris, invece, ci sono lui, Zeynep, Savas ed Emine, in attesa di Nesrin. Gli invitati arrivano e Tariq subito conquista Sakine e Sultan con il suo fascino, ma quando inizia a dare consigli sia sul cibo che sul servizio, Ali Risa appare risentito. Nonostante ciò, la cena procede bene, anche se Nu, ancora sofferente per l'abbandono di Gemile, non riesce a nascondere la sua tristezza. Alla fine della serata, Tariq si congeda complimentandosi con tutti, lasciando trasparire tuttavia la sua prepotenza e pomposità, che ora sembra aver attirato i sospetti di Ali Risa. Nel frattempo, a casa di Baris, Emine nutre immediati dubbi su Nesrin, nonostante i suoi sforzi per apparire affidabile. Le sue azioni, specialmente durante il gioco della bottiglia, aumentano i sospetti. Quando tocca a Nesrin e la bottiglia indica Baris, lo obbliga a ballare con lei. Zeynep rimane senza parole, mentre Emine e Savas scambiano sguardi preoccupati. Durante il ballo, Baris ha occhi solo per Zeynep e, dopo qualche minuto, la stringe a sé, dichiarandole il suo affetto. Emine nota lo sguardo deluso e invidioso di Nesrin, che viene messa in ombra da Baris in favore di Zeynep. I dubbi di Emine su Nesrin si rafforzano, convincendola che Nesrin non abbia a cuore gli interessi di Zeynep. Emine spera che anche la sua amica e Gili altri percepiscano la malafede di Nesrin tanto quanto l'ha percepita lei stessa. E con questo si conclude il nostro viaggio attraverso le avvincenti puntate di My Home My Destiny. Spero che abbiate apprezzato ogni colpo di scena, ogni momento di tensione e le emozioni che queste puntate hanno saputo regalarci. Se volete ricevere nuovi video della serie, scrivete «Voglio il continuo» nei commenti e, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e iscrivetevi al canale per ricevere in anteprima le prossime pubblicazioni. Grazie!